Da Bologna si sposa, edizione primavera, qui a Palazzo Albergati Zola Predosa, con me e Monica. Buonasera. Monica, appunto una wedding planner, la sua ditta si chiama Miele Pieperoncino, giusto? Dove possono trovarti i nostri telespettatori? Potete trovarci in via del Cestello 2B, che è nella zona Castiglione di Bologna. Perfetto Monica. Parliamo allora del tuo lavoro, in cosa consiste la tua figura professionale, perché ad oggi magari non è ancora ben chiaro e ben definito appunto a tutti, wedding planner. Certo, come figura professionale accompagniamo gli sposi nel viaggio del loro matrimonio, quindi dalle partecipazioni al viaggio di nozze selezioniamo tutti i fornitori per la riuscita dell'evento. La figura del wedding planner fondamentalmente racchiude tre figure ben precise. Il wedding planner è quello che comunque pianifica l'evento dall'A alla Z, rendendo tutto preciso e perfetto. Il wedding coordinator, che comunque coordina la giornata, quindi anche solo una parte di quella che può essere la pianificazione. Il wedding designer, invece, lo sviluppo creativo dell'evento. Quindi gli sposi vengono da noi e chiedono se vogliono soltanto la regia della giornata, piuttosto che uno sviluppo creativo o anche la presa per mano, chiamiamola così, dalla partecipazione ad arrivare al viaggio di nozze. Perfetto, chiarissima. Direi che adesso abbiamo tutte le idee molto più chiare. So che voi, te e Monica, soprattutto siete molto attenti al dettaglio. E in particolare come si articola, come vi avvicinate agli sposi e come li seguiti nel percorso fino al loro matrimonio? Allora, a parte l'avvicinamento agli sposi, chiamiamolo così, con le fiere. Perché comunque come figura professionale io ritengo di non essere assolutamente necessaria, perché dico così. Oggi con internet gli sposi possono organizzare dall'Ala Z il loro matrimonio senza problemi. Dove interveniamo noi wedding planner? Interveniamo nel servizio. Noi rimaniamo esterni al matrimonio, diciamo abbiamo la freddezza di rispettare il budget che gli sposi ci danno. Abbiamo la nostra lista ben pianificata di quello che deve essere fatto. Quindi non rischiamo di essere presi dal tipo facciamo il paragone con la mamma che magari si emoziona e quindi può dimenticare le fedi a casa piuttosto che di prendere qualcosina di quello che si era pensato di fare perché presa dall'emozione del matrimonio della figlia o del figlio può sfuggire. Quindi noi come squadra siamo addetti alla riuscita dell'evento e in quello ci impegniamo. Quindi il servizio fondamentale che noi offriamo è quello di liberare gli sposi dallo stress del matrimonio. Cos'altro abbiamo? Abbiamo un buon ufficio acquisti perché la coppia che deve comprare i due sacchetti di bomboniere magari non ha la stessa capacità di acquisto di noi che per dieci coppie dobbiamo comprare gli stessi sacchetti o comunque anche personalizzarli. Quindi diciamo che c'è la professionalità che gioca al nostro vantaggio che sicuramente non può essere sopperita da altre cose. Qual è il vostro motto nel vostro lavoro? So che ne avete uno molto particolare e anche divertente. Dove vuoi, con chi vuoi, a tutto il resto ci pensiamo noi. Simpaticissimo Monica. Ascolta, un'ultima domanda prima di chiudere. Quanto può influire il budget nel vostro lavoro, soprattutto con i tempi di oggi? Il budget per noi è fondamentale, nel senso che noi lavoriamo molto meglio con un budget ben definito che gli sposi ci danno e cerchiamo di rispettarlo. Partendo dai punti focali che possono riguardare il catering, che è comunque la spesa più importante, andiamo a inserire tutti i servizi rispettando la qualità dell'evento. Direi che da Monica e Miele Peperoncino è tutto. Salutiamo i telespettatori di Wedding Time TV. Ciao! Ciao! Ciao!